Musica Tav bruciata nella notte le ruspe usate per i lavori nel cantiere della Maddalena a Chiomonte domani l'udienza di convalida per le due donne arrestate Buona domenica dal telegiornale Rai del Piemonte Apriamo subito con la Valle di Susa, torno ai cantieri della Tav dove non cessano gli atti di violenza La notte scorsa sono stati incendiati trattori, ruspe, macchine e scavatrici delle ditte impegnate nei lavori Caterina Cannavai è andata in Valle di Susa Le violenze sono sbagliate Per me la violenza deve... noi facciamo una... qua forse non la vogliono e ci sono tanti buoni motivi perché comunque soldi da spendere in questo momento in Italia non ce n'è Però se usi la violenza magari passi poi dalla parte sbagliata In Valle di Susa si susseguono le violenze contro il cantiere per l'alta velocità Tagliata la recinzione per alcuni metri con successivo lancio di pietre e due donne arrestate Stanotte alcuni mezzi pesanti sono stati dati alle fiamme Una situazione che si protrae ormai da mesi Le forze dell'ordine all'interno del cantiere Gli attivisti all'esterno con azioni di pressione e disturbo Il ministro Maroni lancia l'allarme e dice qualcuno ha intenzione di uccidere Affermazioni gravi secondo il movimento Notav Molto gravi sì perché un ministro dell'interno dovrebbe cercare di abbassare i toni Invece di buttare benzina sul fuoco E poi perché pensa di ridurre il problema del TAV in Val di Susa A un problema di ordine pubblico Mentre invece il TAV in Val di Susa è un problema estremamente serio Politico Di dialogo Ma quelle violenze ci sono ma sono la risposta alle violenze dello Stato Di quella non se ne parla Che c'è un ricorso Che ci sono dei ricorsi in tribunale Perché hanno occupato dei corsi senza autorizzazione Di quello non ne parla Non sono molto d'accordo sulla violenza Però penso che comunque la gente sia stata portata a questo punto Perché comunque non c'è assolutamente possibilità di dialogo con i politici Occhi di dovere